Il tuffo carpiato all'indietro di Tania Cagnotto Non sono più così sicura di ritirarmi la campionessa azzurra Ora aspetta un figlio, magari è la gravidanza che gioca brutti scherzi o quel martello di dall'ape, la mia compagna di trampolino, ma prima la porta era chiusa, ora non più. Meno. Ero molto convinta. Ora non lo sono più, magari è la gravidanza che gioca brutti scherzi o quel martello di Francesca dall'ape, la mia compagna di trampolino, che ogni giorno mi tormenta vedrai quando sei mamma che voglia di riprendere che ti torna. Così Tania Cagnotto riapre alla possibilità di tornare alle gare. Vediamo, dico solo che prima era una porta chiusa adesso non più. Per fortuna non ci devo pensare subito, nasce a fine gennaio. Se ne riparlerà. La campionessa azzurra di Tuffi aveva annunciato il ritiro dopo le Olimpiadi di Rio e adesso aspetta un figlio. La campionessa azzurra di Tuffi aveva annunciato il ritiro dopo le Olimpiadi di Rio e adesso aspetta un figlio. La campionessa azzurra di Tuffi aveva annunciato il ritiro dopo le Olimpiadi di Rio e però di nuovo bene. La campionessa azzurra di Tuffi aveva natura une vela cosa sarà scendata di Tuffi aveva avvita il ritiro dopo le Olimpiadi di festa di Tuffi aveva e scendata, Cosa staggia tutti aveva un po' la città che ha fatto?